1, 2, 3, 4... sembra essere perfetta come situazione a parte quel tuo brutto carattere ma il mio cuore è relativamente inesperto ecco, ho paura che non si riavrebbe se venissi ancora una volta messo da parte cosa che assolutamente mi aspetto che accada è che io so che cosa meriti tu meriti tu meriti tu meriti qualcuno che ti dica non riesco a immaginare un mondo senza di te non lo so che quello che c'è stato fra di noi finisca senza averti detto che sei la parte migliore della mia vita la parte migliore che sei la parte migliore Grazie